E tra poco qui con noi sul palco del Teatro del Moscerino, Miss Silvia Uga! Grazie, grazie. Ciao, ciao, buonasera, Teatro del Moscerino. Moscerino ha un nome evocativo, mi fa pensare a quelle bestioline d'estate che ti si appiccicano addosso, impossibili da scacciare via. Avete qualche idea per caso su quegli insetti? Le zanzare, le zanzare. Ecco, io ho trovato che d'estate c'è una somiglianza tra le zanzare e quegli esseri che allo stesso modo sono impossibili da scacciare via. Ti stanno addosso giorno e notte alla ricerca di qualche centimetro di pelle scoperta. Ma chi sono questi qua? Non sono le zanzare, sono i tipi che fanno catcalling. Per chi non lo sapesse, il catcalling è quella tradizione tramandata di uomo in uomo che permette loro di sentirsi autorizzati di fare dei complimenti alle ragazze in giro per strada. Dei complimenti per migliorarci la giornata. E infatti penso proprio a quelle giornate d'estate in cui esco in pantaloncini come quella volta che ero in bici e un vecchio di me, un signore, mi ha fischiato e io gli ho detto fai schifo. Lui ci è rimasto un attimo male e ha detto tu fai schifo. No, ma scusa, ma io avevo capito di piacerti. Cioè che cos'è, allora appena esprimo come mi sento, perdo subito tutto il mio fascino, no? Beh, grazie tante. Allora intanto, certo, devo riconoscergli la prontezza di riflessi. Probabilmente era uno di quelli che ancora non si pisciano addosso, quindi ancora con... Insomma, questo è da riconoscergli. E infatti, visto che mi ha fischiato, ho deciso di inserirlo nella categoria dei pastorelli, ok? Cioè quelli che fischiano al gregge. Ma poi nella mia storia di ragazza che esce per strada liberamente, ho accumulato una serie di tante altre categorie, no? Ci sono per esempio i cavalli di legno, quelli che ti dicono troia. Eh, questa è una citazione america. Arriva dopo, arriva dopo, ma arriva. Sì, sono proprio una troia, sì. Non so resistere a un bacino mandato dal camion dall'altro lato della strada. Sono proprio troia, sì. Oppure ci sono i talent scout, quelli che trovano talenti in giro tra le ragazze della porta accanto, no? Con quelle gambe dovresti fare la modella. Grazie mille. Allora, guarda. Mollo il mio posto fisso nella gastronomia di famiglia e inseguo il mio sogno delle passerelle. Vado ai provvini da Victoria's Secret e dirò che tu hai creduto in me fin dall'inizio. Grazie mille, grazie. E poi ci sono i miei preferiti, che non hanno bisogno di altre parole, sono gli annusatori di minestre. Quelli che fanno... Ah, che buona! Ah, che meraviglia, quelli sì, sono proprio i miei preferiti. C'è da dire che d'estate, tra noi che ce l'andiamo a cercare andando in giro tutte scosciate e il maggior tempo libero a disposizione, il catcalling è un po' un vincere facile, diciamocelo. Il catcalling invernale, invece, è tutta un'altra disciplina, molto più di nicchia, per i più audaci, no? Cioè, io mi metto nei panni di un gentiluomo che mi vuole fare un complimento e vede un piumino, un cappotto fino al fondo. E si chiede, ma che corpo ci sarà sotto quel piumino? Che culo celerà quel cappotto? Chissà se quella signorina vuole praticarmi il sesso orale anche da sotto quella sciarpona. Eh, ma la risposta non ce l'ha e quindi ci va un po' più con i piedi di piombo, no? Mi accenna magari solo una linguettina, ciao, bella. Oppure non abbassa neanche il finestrino se si trova in macchina, no? Si avvicina soltanto a me, perché fa troppo freddo d'inverno per abbassare il finestrino, quindi mi lancio soltanto uno sguardo e poi riparte verso l'orizzonte, no? E le nostre strade si dividono per sempre, dopo che lui mi ha illusa, come in quel finale di Fast and Furious, no? Dove it's been a long day without you, my friends. Se ne vanno Vin Diesel e quell'altro. Sì, e questo era il catcalling invernale. E mi viene da pensare che, visto che è una tradizione appunto che va avanti da così tanto, se magari il catcalling affonda le proprie origini nella preistoria. Mi sono immaginata tre uomini preistorici che chiacchierano in una grotta, no? Del più e del meno. Ah, io ho scoperto il fuoco, io ho inventato un'arma appuntita, cose da tutti i giorni. Io ho fischiato a una femmina e me la sono fatta. Ah, cioè? Dicono gli altri, no? Sì, sì, le ho fischiato e me la son portata nel giaciglio. Ah, quindi non hai dovuto tirarla per i capelli e trascinarla come facciamo di solito, no? È bastato solo fischiare. Sì, sì, frate, te lo giuro, è bastato fischiare. Allora, sì, quello si era fatto una femmina, di gnu, però. Perché sì, perché all'epoca non c'erano i rasoietti della vet rosa, allora era facile confondersi, no? Però lui ovviamente non l'ha detto ai suoi amici, no? Per lui bastava aver scopato ed era contento così. E quindi i suoi amici provano, escono dalla caverna e cominciano a fischiare dappertutto, a fischiare, con l'unico risultato di attirare enormi mandri di gnu. Ecco come è nata la pastorizia, tra l'altro, se andate a verificare su National Geographic, gentili ascoltatori, è proprio così. E quindi però loro non si arrendono, chissà, forse avevano proprio intrinseco dentro di loro il fatto che non accettavano un no come risposta, no? Continuano a fischiare, a fischiare e nessuna ragazza ci sta. Quell'episodio è successo 500.000 anni fa, i tentativi sono continuati all'infinito e le ragazze conquistate sono state zero. Quindi forse l'unica speranza che mi rimane per l'estate, perlomeno, è che si estinguano le zanzare. Grazie. Grazie.